come possiamo rendere i nostri accordi più espressivi e emozionanti questa domanda che mi fate spesso e quindi oggi vediamo l'esempio di un giro di accordi molto semplice ma allo stesso tempo ricco di colori armonie interessanti e soprattutto emozioni bellissime in questo video utilizzo una made in italy sono orgogliosissimo ragazzi è il made in italy è sempre è sempre ricco di qualità questa è una gaudenzi om essenzia quindi grazie mille a mauro per avermi mandato questa chitarra per farmela provare io non vi dico niente ragazzi e basta il suono voi fatemi sapere se questa chitarra vi piace nella sezione commenti noi siamo in tonalità di sol maggiore e partiamo proprio con l'accordo di sol ma lo coloriamo in tantissimi modi diversi sia armonicamente che melodicamente partiamo con una linea di basso un sol semplice un do maggiore con il basso di sol e una melodia che sviluppa questo accordo di sol ad 9 quindi vedete quanti colori abbiamo aggiunto bellissimo mi raccomando ragazzi utilizzate sempre il pollice per suonare questa parte e io utilizzo veramente la parte del polpastrello quindi diamo un colore un tono molto rotondo e molto morbido ripetiamo lo stesso accordo siamo ancora in sol maggiore do maggiore con il basso di sol e ci spostiamo sul prossimo accordo che cosa sto suonando questo è un accordo che veramente ti spezza il cuore è un si minore quindi armonicamente siamo sul terzo grado della scala di sol si minore triadiata di si minore ma anche con questa sesta minore quindi questo sol all'interno del si minore lo arpeggiamo quindi sempre molto morbido prossimo accordo ecco questo è un esempio molto interessante in quanto la melodia non è suonata sopra l'accordo ma è suonata all'interno dell'accordo quindi tra le voci dell'accordo un do ad 9 che lo suoniamo sempre con un arpeggio fino al sol e poi questa melodia con il si e con il la quindi sentite che bel colore tantissimo controllo della mano sinistra che mantiene la diteggiatura mentre suoniamo la melodia adesso melodia sulla seconda corda utilizzo questo hammer on and pull off facciamo lo stesso discorso qui ritorniamo a questo si minore e cambiamo la melodia suonando la seconda corda vuoto passiamo alla prossima sezione che suonerà molto conclusiva quindi apriamo con questo la minore ad 9 un accordo bellissimo un sol ad 9 sempre molto romantico e finiamo con questo re col basso di fa diesis quindi abbiamo trasformato questo giro di accordi semplice in qualcosa di colorato e emozionante sto suonando con un tempo rubato quindi non c'è un vero e proprio tempo ma cerco di farmi guidare dagli accordi quindi dall'aspetto armonico e anche melodico degli accordi inoltre mi vedete sempre muovere la chitarra in questo modo su alcuni accordi questo per dare un vibrato naturale agli accordi una volta che abbiamo una struttura come questa possiamo poi aggiungere o togliere quello che vogliamo in questo caso andiamo ad aggiungere un pochettino più di colore e di movimento è chiaro che possiamo fare tantissime cose ma cerchiamo sempre di fare tutto in maniera pertinente al brano quindi aggiungeremo un po' di cose ma sempre con grazia ok? vi faccio un esempio in questo caso abbiamo aggiunto più note abbiamo ampliato la melodia sempre con la stessa linea di basso accordo e poi questa melodia più lunga di nuovo il sol qui aggiungiamo un colore melodico anche ritmico con questo hammer on and pull off poi questo si minore questo lo lasciamo invariato prossimo accordo qui creiamo di nuovo una melodia sempre all'interno dell'accordo con questo re, mi e fa diesis e finiamo la melodia con il sol sempre suonata con il pollice cambiamo colore armonico con questo accordo di dominante secondaria un mi settima e poi ritorniamo a la minore anche questo accordo è abbellito con questo hammer on and pull off stessa cosa per l'accordo di re che partirà sempre come un re con la terza al basso e poi aggiungiamo una melodia questa melodia ci porterà poi alla sezione successiva quindi ricapitolando siamo partiti con un giro semplicissimo lo abbiamo abbellito con degli elementi armonici e melodici e poi abbiamo aggiunto ancora più colore principalmente un colore melodico quindi ampliando la melodia possiamo poi anche decidere di creare delle sezioni che siano completamente diverse per esempio in questo caso ci siamo spostati quindi questo accordo lidio quindi un do maggiore con il fa diesis con la quarta aumentata un si minore settima con anche la sesta la minore questo è un accordo di la minore bellissimo fondamentale quinta e poi suoniamo queste terze mi minore questo arpeggio di mi minore è molto bello do settima maggiore la minore settima re settima io spero che questa lezione vi sia piaciuta ragazzi se siete interessati allo studio della chitarra acustica date un'occhiata al mio nuovo corso next level acustica in questo corso avete a disposizione 5 lezioni a settimana dove andiamo a focalizzarci su le 5 aree importanti del tuo playing quindi fingerstyle, strumming, tecnica, creatività e musicalità vi lascio tutte le info in descrizione in bocca al lupo e buono studio grazie a tutti